Per compiti, sei tu che hai scritto questa cosa, sappiamo chi sei, sappiamo dove abiti, sei stato qui, non riesci più a diminuire, cosa è scritto, sei tu che hai scritto. Per compiti, sei tu che hai scritto, sei tu che hai scritto. Per compiti, sei tu che hai scritto, sei tu che hai scritto. Per compiti, sei tu che hai scritto, sei tu che hai scritto. Per compiti, sei tu che hai scritto, sei tu che hai scritto. Per compiti, sei tu che hai scritto, sei tu che hai scritto. Per compiti, sei tu che hai scritto, sei tu che hai scritto, sei tu che hai scritto, sei tu che hai scritto. E' cominciato tutto qui, in questa stanza, per gioco di notte, dietro a questo schermo, questi tasti, queste frasi profonde scritte senza saperne vero significato, queste fotografie scattate di continuo. E' cominciato tutto qui, nel silenzio, nella penombra, nella solitudine, nella finzione. E' cominciato tutto in questa stanza, nella mia stanza, in questa stanza che non è solo la mia, è la stanza di tutti. Il web, la rete, l'internet, una stanza in cui tutti possono entrare, parlare, pullare, frittare, amare. Anche no, non serve avere un permesso, non occorre. Qui si può stare a lungo, oppure entrare per un saluto. Stare a lungo, in un angolo, guardare, spirciare, spiare, aspettando che succeda magari qualcosa di interessante. E' cominciato tutto qui, è cominciato tutto qui, è cominciato dentro di me, nel mio cuore, nel mio cervello, nella mia intimità. E' cominciato dentro di me, ora fa parte di tutto il mondo, è la portata di tutto il mondo. Che piace o no, a me piace che io possa interessare a tutto il mondo. Perché questa, questo sono io, questo è il mio volto, questa sono i miei amici, questa sono i miei genitori, questa è la mia faccia, questa è la mia foto, è la foto che più mi piace, questa è la foto che invece più piace agli altri, questa è la mia idea, questi sono i miei sogni, questo sono io. E' cominciato tutto per gioco, ed era divertente, era eccitante, era praticamente senzarevole, si poteva vincere sempre, si poteva vincere tutti. Si gioca su di un campo che è lungo e largo quanto tutto il mondo, e succede che ci sono compagni di squadra ed avversari. E capita spesso che i nostri compagni di squadra diventino i nostri avversari, e i nostri avversari i nostri migliori amici. In questo giorno, le nostre parole valgono come le parole di tutti gli altri, ma mi importa chi sono, da dove vengo, quale sia la mia età, quale sia il mio titolo di studio, che lavoro faccia. Le nostre parole rimangono, e possono fare tutto, possono essere apprezzate, possono ferire, possono consolare, possono essere prese come una provocazione, e possono essere prese molto sul serio. In questo gioco, le nostre parole valgono come le parole di tutti gli altri, esattamente come le parole di tutti gli altri. Presidenti, astronauti, vittatori, professori, politici, attori, belle ragazze, cantanti, piloti, atleti, giornalisti, calciatori, influencer. Grazie.